Non mi date una mano a fermare queste due qui, ma non hai capito che ti stavano truffando, queste sono delinquenti. Hai visto? Sembrava tardi, ma si può intervenire in tempo e questo lo dico anche a voi, attenzione, non lasciate mai le persone di una certa età a fare questa operazione da soli, il Bancomat, la banca, la posta, perché dovunque ci sono soldi si diventa vulnerabili, si diventa delle prede. Quindi, come dico sempre io, se una parola è troppa e due sono poche, quali sono le parole giuste? Tre. Chiama la polizia. Brevo.